Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto videocamere di sorveglianza telecamera interno wireless. Modello DSN D9 fotocamera sensore di immagine Sensore CEMEOS megapixel min Illumini IR SU Zero Lux obiettivo F3 6 mm F2.0 Standard lente a infrarossi IR CUT Supporto IR e cambiano colore filtro automaticamente Pan Tilt Pan di copertura 270 tilt copertura 120 assistente sistemi di controllo Controllo automatico illuminazione 11 PC SL e di infrarossi 850 NM video e audio risoluzione Flusso principale 1280-720-640-360-320-180 Flusso secondario 640-360-320-180 Compressione H264 JPEG frame rate 30 FPS bit rate Principali 128 K BPS 128 K BPS 4096 M BPS Secondarie 128 K BPS 1024 K BPS Rotazione immagine Specchio flip compressione audio AD PCM Altre caratteristiche cellulare vista Support controllo video Supporto modo dual audio Supporto SD Scheda di memoria Scheda di memoria SD in grado di catturare immagini e video Browser remoto e di trasferimento sulla scheda SD WPS Una chiave per ottenere una connessione Wireless azioni attivate E-mail FTP esterno allarme Inviare il messaggio al server di allarme utente ambito Tre livelli data ora Supporto aggiornamento Aggiornamento da rete DDNS Un DDNS gratuito fornito dal produttore indice di fisica Ethernet 10 base 100 tonnellate base TX interfaccia di storage Slot per scheda SD ingresso allarme Microfono incorporato uscita allarme Fornire un'uscita audio jack alimentazione DC 5V Consumo Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon EU Dalla pubblicità e link all'Amazoniti Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazoniti Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione